La storia di questa umanità è una storia dove quando si è deciso di fare dei cambiamenti radicali sono stati fatti, punto, perché appunto il problema sono le masse. Quelle masse hanno esclusivamente una coscienza di gruppo, non hanno una coscienza individuale e la coscienza di gruppo rimane all'interno dei minari già previsti e c'è qualcun altro sopra che ha una visione più chiara di quello che sono gli scopi del sistema, li amministra, li gestisce, li ridirige. Quando qualcuno con un briciolo ancora di senso critico ha guardato tutto quello che accadeva non ha potuto che rendersi conto che c'era qualcosa che non quadrava. Quando l'uomo ha fame non ragiona, quando ragiona non ascolta il cuore, quando ascolta il cuore dimentica tutto. Ognuno crede che Facebook sia uguale per tutti, ma in realtà ognuno ha il suo Facebook personale. Tutto quello che viene trasmesso su quel dispositivo è mirato non tanto ai suoi gusti in termini di contenuti, video, quello che è, proprio al suo profilo psicologico, perché il dispositivo digitale fa tutta una serie di rilevazioni a cominciare anche proprio dai parametri biomedici. Come respiri, qual è il tuo battito quando guardi una cosa, dove vanno i tuoi occhi? Se metti il pollice sulla videocamera, almeno il telefono che ho io, non mi fa più usare il telefono fino a quando non lo tolgo. Quindi quello lì è un occhio fisso su tutto quello che tu fai e da qualche parte, in qualche archivio, ci sarà un Rocco Bruno digitale, ormai ben costruito, sul quale loro sanno perfettamente come poter agire.